Tocca anche quest'anno alla Clusone Corri in Centro aprire il circuito Corri nei Borghi, l'appuntamento è per venerdì 18 luglio e quest'anno si tocca la decima edizione. Sì, decima edizione, per noi è una soddisfazione essere arrivati al decimo anno, speriamo che anche quest'anno come gli altri anni vada tutto bene, speriamo nel meteo, pare che anche da quel punto di vista non ci siano problemi, il programma è sempre grosso modo il solito, si comincia verso le 18.30-19 con l'iscrizione dei bambini, quindi gara dei bambini riservata a quattro categorie di età, dopo la gara dei bambini la solita non competitiva riservata a chi non è un atleta vero e proprio, ma è semplicemente un appassionato della corsa, al termine della non competitiva si parte con la competitiva delle donne riservate alle senior femminile e come ultima gara, la gara diciamo clou della serata, è la gara riservata ai senior maschili e agli atleti di master. Quanti partecipanti aspettate? Ma noi speriamo di riconfermare almeno i numeri dell'anno scorso, l'anno scorso eravamo in giro alle 400 iscrizioni tra competitiva e non competitiva, per cui per noi riuscire a riconfermare quel numero sarebbe già un buon risultato. Abbiamo detto che la clusione Corri in Centro apre il circuito Corri nei Borghi, ricordiamo anche le date successive. Sì, allora noi come tradizione siamo i primi a partire, per cui anche quest'anno saremo la prima gara, poi a seguire ci sarà il primo agosto la gara di Gromo, l'otto agosto la gara di Castione e a concludere il diciassette agosto la gara di Parre che chiuderà il circuito. Quest'anno siamo solo quattro gare, perché Cerete ha dato un attimo di forfè, però pensiamo che l'anno prossimo si riprenda anche con cinque o forse anche sei gare. Quest'anno siamo quattro e comunque ce la caveremo comunque. È comunque un circuito di tutto rispetto. Direi di sì, adesso ci siamo ritagliati il nostro spazio nelle gare regionali su strada e speriamo di mantenere questo livello.